Mi è capitato qualche domenica fa di percorrere una piazza, una delle più belle piazze d'Italia La piazza Saffi in quelli forlì, contornata da tanti monumenti storici Forse per una delle prime volte ho sentito un calore strano Tanti ragazzini, tanti giovani, tante famiglie Perché ricorreva un'attività interessante Dopo la conclusione delle attività di fusione dalla banca di credito cooperativo di Ravenna Quindi era allora il credito Ravennate e Imolese con la banca di credito cooperativo di Forlì Oggi è la BCC Attenzione che dopo lo vedrete sotto impresso e sovra impresso col nuovo logo La BCC Che è il credito Ravennate, Forlìvese e Imolese Spontaneamente mi sono chiesto cosa sottende questa iniziativa, cosa c'è di dietro Qual è e quali sono le conseguenze di questa fusione Niente di meglio che affrontare questi temi con il presidente della BCC Di questa nuova organizzazione, io chiamo la banca del territorio Attenzione per le altre banche Secondo Ricci E il dottor Fausto Poggioli che è vice direttore vicario della stessa banca Presidente a lei La manifestazione del 7 aveva come obiettivo da parte del gruppo dirigente Quello di far vedere su una piazza che era stata diciamo in qualche modo chiacchierata Per dei mesi, per problemi che poteva avere la banca di Forlì Che la BCC c'è La BCC nuova La BCC di cui Forlì è una componente in questa nuova realtà 13 BCC che si sono unite negli anni E quindi oggi rappresentano la BCC di questo territorio Dove Forlì è una componente Quindi l'obiettivo era di far vedere che ci siamo Che siamo pronti a partire con operatività Con soci nuovi, con iniziative sul territorio Come facciamo negli altri territori dove siamo Questo era il messaggio che volevamo dare Ed è avvenuto tutto ciò in un momento del tutto particolare di ripresa dell'economia italiana Ma anche e soprattutto di questo territorio, Emilia Romagna E soprattutto a Romagna Perché si pone il problema del rapporto in questo momento di ripresa Tra la banca, le banche, il sistema bancario nella fattispecie La banca Ravennate di credito operativo Ravennate Forlìvese E di Molese con chi? Con le imprese, con le famiglie, con il territorio, le istituzioni Dottor Poggioli È proprio così, nel senso che cominciamo a vedere Come si vede poi dai dati statistici che ci vengono raccontati tutti i giorni Anche nel nostro territorio una ripresa Che ancora non è molto consistente ma una ripresa c'è E nello spirito che prima raccontava il presidente La festa che è stata citata voleva dire ci siamo E come ci siamo? E qui vengo alla domanda relativa all'economia del territorio Noi vogliamo essere molto attivi Legandoci ad esempio alle associazioni di categoria E abbiamo da poco fatto un giro di tutte le associazioni del Forlìvese Per far vedere che la banca non solo è attiva ma è più attiva di prima E raccogliere le loro esigenze Faccio tre esempi in cui ci impegneremo brevemente Ad esempio Conf Cooperative ci ha indirizzato su quello che sono i workers buy out La crisi cosa ha portato? Ha portato alla crisi di molte aziende E quindi molte professionalità sono rimaste Ecco l'idea è di riorganizzarle Quindi persone vere, fisiche che sanno fare un mestiere Riorganizzarle in cooperative La cooperazione gli dà una mano E la banca di credito cooperativo gliela dà da un punto di vista finanziario I commercianti I commercianti ci hanno sollecitato ad esempio Come tutti sanno c'è un cambio molto vorticoso di attività commerciali Quindi noi li ci impegneremo per finanziare le nuove attività commerciali Che si avvicineranno sul territorio Gli artigiani da ultimo Anche con loro abbiamo da poco siglato un accordo molto importante Volto anche questo a finanziare questa ripresa economica Per le nuove aziende artigiane Abbiamo fatto un accordo con il quale una prima somma che arriva a 10.000 euro Noi la finanziamo a tasso zero Quindi tutto questo è perché noi vogliamo dare concretezza all'essere banca locale E a finanziare il territorio Ma con iniziative concrete Che ci arrivano dai suggerimenti delle associazioni di categoria Dottor Poggioli del suo intervento si evince con molta chiarezza Come attraverso l'azione della banca del territorio Emergono almeno due linee importanti Primo Come stia cambiando il sistema bancario all'interno Quindi mentre un tempo era il cittadino e l'impresa andava a cercare la banca Oggi è la banca che ha un rapporto col territorio Col cittadino, con l'impresa, col lavoratore, con la famiglia Attenzione che è un passaggio molto importante Anche utilizzando le nuove tecnologie E questo è il primo aspetto Ma il secondo è che, caro Presidente, io noto dal mio periscopio Come stia cambiando il sistema bancario nella Romagna Lasciamo stare per un momento a livello nazionale e europeo Nella Romagna Banche sono scomparse, nuove chieste appacciono Nuovi servizi Presidente E' una delle preoccupazioni che raccogliamo in questo momento Appunto per questo motivo che tu citavi La Romagna è uno dei territori Dove in Italia è più evidente la crisi delle banche E l'altra cosa è la scomparse di banche locali Quando pensi alle nostre banche in crisi E' un banche nato sui nostri territori Dalle nostre fondazioni Dalle nostre comuni Adesso ci troviamo che tutto questo diventa capitale straniero O diventa capitale nazionale Quindi la nostra presenza nella festa era anche per dire La banca locale c'è ancora Noi vogliamo mantenere questo impegno di una cooperativa Che ha tanti soci sul territorio Che è attenta Che è un patrimonio che dobbiamo difendere Che dobbiamo continuare Perché se perdiamo questo Abbiamo fallito come imprenditori Come cittadini Come cooperatori Di queste esperienze Perché è un qualche cosa Che io non metto nel mio portofoglio Nella mia eredità Ma è un patrimonio che è dei cittadini È del territorio È delle imprese Dottor Poggioli Qui emerge anche l'altro tema Che sono i soci Cioè costruire questa banca del territorio Questa BCC Nella quale Non so quanti siano oltre 25 mila 27 mila soci Il mio voto vale uguale E uguale a quello di Giuseppina Di Giuseppe O dell'imprenditore E' uguale Quindi abbiamo Le stessi doveri e diritti Le stesse responsabilità Un occhio sempre aperto Comunque sempre nel rapporto Con le nostre banche Di cui siamo soci Perché l'altro tema È che noi Voi Non potete Per educazione finanziaria Anche in questo senso Affidare E fidare E fidarci Senza aprire gli occhi Sempre Quindi il mio è un invito Dottor Poggioli E anche al presidente A che noi Dobbiamo sempre stare attenti Ai pochi O tanti soldi Che mettiamo a disposizione Questo era il senso È fondamentale questo E Vedi Noi abbiamo un vantaggio In questo senso Come banca locale Che conosciamo O dovremmo conoscere Meglio di altri Il territorio Alla nostra gente Perché i nostri dipendenti Sono qui Perché i nostri amministratori Sono qui Perché i nostri comitati locali Sono di qui E quindi Dovrebbero capire E conoscere Se Ricci Ha le condizioni Per chiedere quel mutuo Per chiedere Poi Gli errori capitano Però Quello che dobbiamo Dobbiamo evitare Perché la storia È inutile che ci insegna In cui A volte Abbiamo chiuso un occhio Perché quello Era il mio amico Perché quello Era parente Perché Questa è la storia Purtroppo Negativa Di molte delle nostre banche Piccole Ma anche le grandi Perché Le crisi Sono nelle piccole Ma sono anche Nelle grandi Che abbiamo visto Questo è purtroppo La conseguenza Di queste crisi Economiche Dove Alla fine Le crisi Sono ricadute Su chi ha fatto I prestiti Dottor Poggioli C'è un altro elemento Dovremmo avere Tanto tempo A disposizione Per i nostri Per i soci Ma per tutti I telespettatori E cioè Questo Credo che Col primo gennaio 2018 Entri In ballo Nel sistema bancario Il sistema Del credito cooperativo Lunghe discussioni Con Icrea Che L'istituto centrale Al quale Voi aderite E invece L'istituto centrale Trentino Se non mi sbaglio E Ci sono state Lunghe discussioni Si è concluso Quest'itinerario Allora Io Prima dico una cosa Su quello che diceva Il presidente Prima poi lascio La risposta Su questo aspetto Al presidente La domanda Mi sembrava Molto appropriata Quella di dire I soci Ma voi dovete Guardarli in faccia Uno per uno Il presidente Ha raccontato Della nostra attenzione Quando noi concediamo Degli affidamenti Ecco Altrettanta attenzione Perché sappiamo Che questo è un tema In Romagna Soprattutto molto caldo Altrettanta Attenzione La mettiamo Quando raccogliamo I soldi Dei nostri depositanti Noi siamo Molto attenti Al profilo di rischio Di chi ci affida I propri soldi Ma non In modo astratto Lo facciamo perché Perché noi Non abbiamo Dei vincoli Di dover fare Bilancio Fino all'esasperazione Noi dobbiamo Tenere in ordine La banca Far sì che sia efficiente Che ripaghi costi Ma non abbiamo La necessità Di dover remunerare Come diceva il presidente Dei capitali Che stanno In giro per il mondo O in giro per l'Italia Quindi noi Cerchiamo di Trattare il cliente Quando viene da noi Di analizzare In modo molto dettagliato Quello che sono Le sue aspettative Quello che è La sua volontà Di rischiare Poco tanto E su questo Noi educhiamo I nostri colleghi Per quello che riguarda Invece Gli aggiornamenti Su Icrea Il presidente Oggi Dobbiamo dire Che c'è un tentativo Per fare due gruppi Tu hai citato Icrea Cassa centrale Ed è la fotografia Di quello che purtroppo Stiamo vivendo In questa fase Io dico purtroppo Perché Perché L'obiettivo Che come cooperatore Era quello di avere Un gruppo solo Di avere una realtà Sola Noi I nostri padri Hanno lavorato Sono 50 anni Che c'è Icrea Per avere Una cassa centrale Che poteva fare Delle cose Che le piccole Non riuscivano Il collegamento Con l'Esto Le carte di credito La finanza E quando Il legislatore Ci chiede Di unire In maniera Più vincolante Queste 300 BCC Che sono in Italia Noi ci dividiamo E Da una parte Accetto In qualche modo Conoscendo i Trentini Le loro autonomie No Accetto che c'è Un fatto Culturale Che li Porta ad agire In un certo modo Ma quello che mi dà fastidio È Le nostre Sui nostri territori Le nostre Che facevano parte Da sempre Del gruppo Che magari Sono stati anche Amministratori Del gruppo Che adesso Per interessi Che io non so Quali Se non Quelli individuali No Che interesse Ha il territorio Qui attorno A far parte Di un altro gruppo Per essere in competizione Di nuovo E non essere nella squadra Eppure qualcuno c'è Eppure Eppure questa è la realtà Che dobbiamo Se non gli sbaglio Intanto non svelo mica nulla Molto Noi vicini Nel territorio Autonomo Questo che mi dà fastidio Io ho bisogno però Di dire sempre le cose Come stanno E credo che anche voi Si è iniziato Questo percorso Di chiarezza Di trasparenza Per esempio Ma voi accettate Che la banca europea O meglio La banca d'Italia E quelli esterni Vi dicono Ma perché non prendete L'amministratore delegato Il tizio direttore Che magari è sceso Da un altro Gruppo bancario Fatto fuori O quasi E ve lo impongono Questa è la discussione Di questi giorni Ieri eravamo a Milano Ad ascoltare Banca Italia E la BCE Per i lavori Che dobbiamo fare Per questi programmi Qui E l'aria che tira Perché quello che appare Sui giornali Non arriva per caso Arriva che Le banche nazionali E le banche europee Sono strutturate Con un amministratore delegato E quindi Ci dicono Anche voi dovete Ristrutturare Diciamo Organizzare Il vostro Consiglio I consigli Delle capogruppo Che vedo Un amministratore Con un'esperienza Internazionale Con conoscenze Che voi non avete Nel vostro gruppo Che voi non avete E quindi Io credo Che alla fine Noi dovremo accettare Questa è la mia Convenzione Di strutturarci Come le altre banche Ma la scelta Degli uomini Però La scelta Degli uomini La dobbiamo fare noi Siamo noi Che dobbiamo andare A quel tavolo Dicendo Noi abbiamo la lista Dei nomi Questi sono Le nostre Non quello che Ci suggerite voi Che magari è senso Da un altro Palcosenico E quindi Noi dobbiamo adottare Queste cose Questo è l'impegno Sul quale Oggi siamo Diciamo Lavoriamo Con questo obiettivo Io vorrò Io vorrò dopo Con il dottor Poggioli Entrare nel merito Di alcuni servizi Che state portando avanti In questo tempo Però mi lascio Concludere Siccome lei ha fatto Riferimento alla Banca d'Italia Non io Facciamo un passaggio Velocissimo Perché di questi giorni Ma secondo lei Al di là Della polemica politica O dello sgarbo istituzionale Che sono Nel contenuto vero La domanda è Da parte dell'investitore privato Di colui che aveva Le obbligazioni Le azioni Ma Banca d'Italia Ha vigilato Ha vigilato per bene? E questo è il tema Della discussione Di questi giorni Il tema Che Diciamo Che oggi Appare Sulla stampa Oggi c'è l'intervento Di Renzi Che ha Diciamo In qualche modo Ampliato Questo dibattito Però Per chi vive La realtà All'interno Erano discussioni Aperte Da un po' di tempo Ecco perché Dice Ma le banche venete Le quattro banche Montepaschi No mi perdono Ma anche le tre casse Di risparmio Della Romagna Di Ferrara Le tre casse di risparmio Che hanno avuto L'ispezione Fino all'altro giorno Cosa avete visto? Ecco Questo è Il tema In discussione E quindi Che ci sia In qualche modo Un coinvolgimento Anche dei vertici Di Banca Italia Non mi sorprende In questa In questa fase Di discussione Poi Il guaio Secondo me È quando In queste cose Le mettiamo in politica O le usiamo Come Arma di scontro Fra Fra le varie anime Della politica Che questi Sono fatti Imprenditoriali Che meritano Molta Attenzione Molto Impegno Dottor Poggioli Diciamo che Io ricordo Quando il precedente Presidente del Consiglio D'accordo con Banca d'Italia Diceva Ma noi Il nostro sistema Bancario italiano Non ha problemi Ed era successivo Questa affermazione All'ingresso Del bail-in Prima del bail-in Merkel Aveva speso Qualcosa Come Credo 243 miliardi Di euro Per salvare E mettere in sicurezza Il sistema bancario Tedesco E noi Abbiamo detto Va tutto bene E andiamo avanti così E invece abbiamo scoperto Una mare realtà Per esempio Gli NPL Sì Allora Su questo aspetto qui È chiaro che L'auspicio Del Presidente del Consiglio Di allora Era più un auspicio Di disegnare un paese Che Poteva farcela da solo Ma mi scusi Ma qualcuno Gliel'avrà pur detto Che eravate a posto Assolutamente Allora Lì l'errore è stato Assolutamente tecnico Nel senso che Quando era il momento Senza dire Chi doveva fare Questa scelta Quando era il momento Bisognava fare Come i tedeschi Cioè bisognava dichiarare La debolezza Di alcune Perché adesso Poi si tende a generalizzare Di alcune banche italiane E fare un intervento Però quello che devono sapere I cittadini A mio avviso È che È vero Sono stati fatti questi errori Ma oggi Che ormai I casi di debolezza Sono tutti sul tavolo E non se ne E non se ne vedono altri Per lo meno Di grandi dimensioni È vero Che il sistema italiano Alla fine Salvo i soldi Poi inseriti In una prima fase In Monte dei Paschi È riuscito Attraverso Soprattutto Il sistema Delle fusioni A risolvere A risolvere il problema Senza accedere Ai soldi pubblici Quindi questo Poi tornando al ragionamento Che faceva prima il Presidente È vero Cioè Probabilmente la vigilanza Dove essere un po' più attenta Però io la vedo sempre Come no C'è il ladro E il poliziotto Che deve prendere il ladro Allora prima Vuol dire che è mancato Un po' di coscienza Da parte di chi ha gestito Alcune banche O perlomeno Non pensavano Che la crisi Sarebbe durata Quanto ha durato Poi è anche vero Che chi deve prendere il ladro Probabilmente doveva essere Un pochettino più attento E più E più Chissà perché in questo momento Per aprire la Prentice Mi viene in mente La questione di Igor E dei mille carabinieri Che lo dovevano prendere Non so chi fosse stato il ladro O meno Però Non è successo nulla Lui ce l'ha fatta Lui ce l'ha fatta E lui è sparito E scappato E lui è sparito E scappato Da solo Forse ha aiutato Chiusa la Prentice Perché nel poco tempo Ci è rimasto Poi torneremo Sui singoli punti In questo momento So Vedo Che i PIR Vanno alla grande PIR PIR Vanno alla grande Allora adesso non so Velocemente anche per Torneremo proprio Esatto Per i telespettatori Comunque insomma Alla fine del 2016 Il governo Ha fatto Nell'ambito della finanziaria Ha fatto questo regolamento Che cosa consente Sostanzialmente Consente a chi Persona fisica Perché PIR È un piano individuale Di risparmio Che investe Da un minimo di 500 euro A un massimo di 30.000 All'anno Fino a un massimo totale Di 150.000 Di investire in prodotti finanziari Quelli che vuole lui A seconda del rischio Che lui Si vuole prendere E il guadagno Che ne ricava È esentato È esentato dalle tasse In più sono prodotti Che non pagano Tassi di successione Perché lo Stato Ha fatto questo Lo Stato ha fatto questo Perché Perché poi Chi raccoglie questi soldi Ha l'obbligo Di investirne il 70% In aziende italiane O essere con una sede stabile In Italia E addirittura Il 20% Del 70% Quindi Il 30% Del 70% Quindi circa il 20% In piccole e medie aziende E questo per noi Banca di Credito Cooperativo È una cosa fondamentale Lo Stato è un buon successo Assolutamente Noi ne abbiamo collocati Il collocamento è partito All'inizio dell'anno I primi sei mesi Noi ne abbiamo venduti Qualche migliaio Qualche migliaio Ma ripeto Prendo un attimo per dire È un prodotto Che ci sta molto a cuore Perché Perché l'intento del governo Era quello di destinare Quei fondi Alle piccole e medie aziende E noi siamo la banca Oltre che del privato Della piccola e media azienda E quindi Ci interessa molto Che poi questi soldi Vadano a buon fine E quindi Favoriamo il collocamento Di questi prodotti I soci sentono Questo richiamo? Direi che Questo è un discorso Che dobbiamo farlo Anche per l'interesse Del territorio Noi siamo Noi siamo Solo su questo territorio E quindi Cercare di spiegare Che investire Vuol dire ricchezza Per l'artigiano Per il coltivatore Ma vuol dire ricchezza Che noi riusciamo a tenere Su questa No Perché i risparmi Che tu metti da parte Poi lo vanno a investire In titoli esteri O in altre cose Costruirsi su questa Su queste realtà Questo è l'impegno Che dobbiamo Trasferire Convincere La nostra base sociale Io ringrazio Perché questo è un altro tema interessante Quando noi Oggi diciamo Ma il mondo è in mano alla finanza Poi ci chiediamo Va bene Ci sono i grandi investitori Per esempio Penso al fondo Sovrano norvegese Che ha qualcosa Nel proprio fondo Come 800 miliardi di euro Che sono circa la metà Del prodotto interno lordo italiano E con quei soldi Investe in tutto il mondo Nelle grandi imprese Nelle grandi imprese Pir Il presidente diceva Noi queste azioni Sono per gli investimenti Che devono essere fatti Ne piccole e medie imprese E allora qui C'è il tema della finanza Rispetto a chi investe Io piccolo investitore Sono nel mio piccolo Un investitore Anch'io Un esperto finanziario Attorno al discorso Di conoscere le cose Sapere le cose Cioè qui si tratta Di rovesciare Approfittando dei pil E degli altri prodotti La nostra conoscenza La educazione Fiscale e finanziaria Assolutamente La consapevolezza Soprattutto dell'investitore Però Il presidente L'ha spiegato molto bene Noi Abbiamo una filiera corta Raccogliamo dal signor Rossi Sul territorio E investiamo Nell'azienda artigianale Del signor Rossi Cioè voglio dire Noi facciamo questo mix Ed è per questo Che ci interessa Il territorio E su questo Noi vogliamo Che non solo Il signor Rossi Lavori con noi E l'azienda Rossi Lavori con noi Ma che siano anche I nostri soci Cioè che condividano Questa idea È per questo Che sul territorio Di Forlì Ganciandomi All'evento Che è stato fatto Abbiamo lanciato Una grossa campagna Volta a chiedere A tutti i nostri clienti Di diventare soci Della banca Non perché ci serva capitale Perché oggi si diventa soci E il presidente Ce lo ricorda tutti i giorni Con 200 euro Con 250 euro Ma perché vogliamo Condividere Questo modo Di stare Sul territorio Come cambiano le cose Un tempo Meno soci Ci sono Meglio è Oggi tanti soci Meglio è No La nostra è una famiglia È una public company È una public company Ha bisogno Perché Vediamo Noi siamo obbligati A lavorare In maniera prevalente Con i soci E quindi Questa è la missione Sulla quale ci dobbiamo Velocemente Per il poco tempo A nostra disposizione Gli altri prodotti Le linee Sulle quali siete impegnati Più che prodotti Perché ne abbiamo parlato E poi in un'altra trasmissione Torneremo Ne torneremo A noi ci piace Sempre per rimarcare Questa idea Che il presidente Ha spiegato bene Di banca del territorio Noi ad esempio Essendo una banca Di credito cooperativo In questo momento Siamo molto impegnati In promuovere Campagne di crowdfunding Cioè che cosa facciamo Noi prendiamo Delle istituzioni sociali Alcuni esempi No La cooperativa Cavarei del Forlivese Che si occupa Che si occupa Di assistenza ai disabili Il banco alimentare Oppure L'istituto oncologico Romagnolo Ecco noi che cosa facciamo Faccio un esempio Uno per tutti Per Cavarei Loro hanno necessità Di avere una stampante 3D Che serve per i disabili Che sono da loro seguiti Per produrre oggetti Che gli servono A migliorare la vita Nella loro disabilità Allora loro promuovono Una campagna E noi gli abbiamo spiegato Come fare Devono raccogliere 5 mila euro Quando ne hanno raccolti 4 mila Noi aggiungiamo L'ultimo milio Per i nostri telespettatori Il crowdfunding Come sapete È la nuova iniziativa Che scaturisce Dalla legge Del terzo settore Il codice sociale Torneremo su questo argomento Che è molto interessante Perché si lancia l'idea E intorno all'idea Si chiede L'interesse dei cittadini Dei soci E voi Fate la vostra parte Si tratta di moltiplicare Gli sforzi Ricordate Presidente Possiamo concludere? Sì Diciamo che L'impegno L'impegno È quello di 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 Rendere forte La presenza Della cooperazione Di credito Sul territorio Dove la gente Si sente coinvolta Si sente a casa Nella Nella famiglia Bene Io la ringrazio Come ringrazio Il dottor Poggioli Il nostro comune Intendimento È di tornare Singolarmente Sui punti Si tratti Dei peer Di crowdfunding Di altri investimenti Ma soprattutto Perché Ciascuno di noi Ha bisogno Di capire Di conoscere Quello che si chiama Educazione Bancaria Finanziaria Fiscale Non dobbiamo Vivere sulla luna E poi svegliarci Un bel giorno Come è successo Con tanti soci Delle banche Che sono andate male Ma io non sapevo Però Ti andava bene Quando magari Realizzavi Il 4 o 5 E nei tempi antichi Magari il 20% Attenzione Perché Poi dobbiamo sempre andare E vedere Le responsabilità Vi ringrazio Buon lavoro Ciao ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti